buongiorno a tutti eccoci qua ringrazio il circolo dei lettori di torino ringrazio guido maria brera per avermi scelto e chiamato a discutere insieme a lui e insieme a voi della sua ultima fatica letteraria candido per la nave di teseo e credo che mai come in questo momento un libro sia stato così a oro orologeria se mi consentite di dirlo perché guido maria che saluto buongiorno guido intanto massimo grazie grazie di tutto no no grazie a te ha scritto un romanzo che è anche al tempo stesso un saggio di quello che stiamo attraversando dal punto di vista della nostra civiltà contemporanea che sui diritti sulla difesa dei diritti consuma una delle stagioni più drammatiche per alcuni versi paradigmatiche per altri versi anche fondative o rifondative di quello che potrebbe essere una un'altra idea di società mi piace ragionare con guido di questi argomenti perché brera ha questa caratteristica che in questo libro secondo me si esalta tanto quanto era già successo con i diavoli e cioè di esercitare nei confronti della società nella quale stiamo vivendo e in particolare delle regole che la dominano che diciamo in maniera molto esplicita sono quelle del del capitalismo avanzato arretrato a seconda dei punti di vista ecco dicevo guido a questa caratteristica che esercita questa critica spietata spietata dal di dentro perché ovviamente è diciamo così anche per ragioni legate alla sua professione un soggetto che nell'ambiente del capitalismo si muove e questo aspetto secondo me è molto importante molto significativo nel senso che non si tratta di abbattere un sistema ma di cercare di riformarlo appunto dal di dentro candido quindi guido mi è piaciuto moltissimo perché ci ho ritrovato alcuni tratti di grandi romanzi che hanno raccontato in chiave distopica più che utopica l'evoluzione della nostra società questo romanzo racconta appunto la storia di questo giovane rider che è proiettato in una società che potrebbe essere futuribile ma in realtà è molto attuale che cerca di vedere il buono in tutto quello che gli succede lui pedala 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 dentro questa cittadella di volter come si chiama dove volter mi pare di capire poi mi leggerai tu guido se sbaglio nella interpretazione è il grande algoritmo che tutto regola e tutto domina no non solo la vita di di candido ma le vite di tutti noi poi alla fine in particolare quella di candido che appunto in bicicletta fa il rider fa le consegne ma insomma vive immerso in una realtà appunto distopica nella quale e qui mi ricollego a quello che dicevo prima i grandi romanzi futuribili di un possibile cambiamento della nostra società in chiave se vogliamo persino dittatoriale dal punto di vista culturale cioè ci ho ritrovato dei tratti di 1984 di orwell da una parte e dall'altra lato dei dei tratti di analisi del capitalismo che mi hanno ricordato le mosche del capitale di volponi il primo capitolo l'introduzione è questo racconti di di candido che pedala in una città che in realtà anche dal punto di vista non solo fisico ma anche metaforico è solo macerie macerie di una civiltà possiamo dire e macerie del sogno di un futuro dei giovani che invece si trovano a ad avercelo rubato quel futuro no e la contemplazione di queste macerie ripeto mi ha ricordato molto il primo capitolo di mosche del capitale di volponi diciamo ci sono tanti spunti tante sollecitazioni volteri il grande algoritmo pangloss che campeggia in tutti o in molti punti della città come fosse davvero il grande fratello di orwell no al punto tale che a un certo punto nella casa dove candido vive con sua mamma gli viene murata una finestra per la banale ragione che il sistema ha deciso che la facciata della del palazzo in cui vivono debba esporre una grande immagine di questo pangloss insomma e poi appunto sullo sfondo si muovono tanti tanti giovani integrati disperati come lo stesso candido anche se candido non è disperato alla fine si dispererà però non facciamo troppo spoiler e che sono appunto i nuovi invisibili gli invisibili di oggi i giovani appunto ai quali abbiamo rubato il futuro sullo sfondo dietro a questi per tanti giovani che hanno perso il futuro ce ne sono tanti altri che lavorano da schiavi per far girare il sistema cioè appunto i turchi meccanici come li chiama brera nel libro e sullo sfondo e in finale una grande amara ma molto molto realistica riflessione sui meccanismi attraverso i quali il potere perpetua se stesso lasciando che la società esprima ma nel modo in cui lo stesso potere lo vuole il suo dissenso per gestirlo canalizzarlo e alla fine disattivarlo guido la prima domanda che ti faccio è appunto questa in che misura in che modo e in che misura consideri la vicenda dei rider eh paradigmatica del 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 declino dei diritti e del possibile disfacimento del patto sociale che ci ha tenuto insieme in tutti questi anni intanto massimo ti ringrazio per essere per essere per essere qui e per questa introduzione che mi mette metà in imbarazzo e metà mi riempie d'orgoglio eh io credo che i rider mh eh siano eh la la logistica oggi regna sovrana in questo nuovo mondo perché perché il nuovo la nuova forma di capitalismo eh che io chiamo poi estrattiva anche in onore di di Luciano Gallino si basa sul fatto di massimizzare i profitti la massimizzazione dei profitti però non è avvenuta tramite un'evoluzione non è avvenuta solo tramite un'evoluzione tecnologica cioè dei balsi tecnologici importanti ma è venuta anche tramite eh una sorta di aggiustamento della logistica mondiale quindi tu puoi produrre un bene dove ti fa più comodo lo poi lo puoi spedire da un'altra parte eh perché da quella parte lì risparmi eh a a diciamo a custodirlo e poi lo spedisce a tutti i clienti cioè è un costo è un è un capismo che ha consumato il mondo senza calcolare i costi di questo consumo quello che noi chiamiamo esternalità negative che sono ancora occulte il rider è la l'ultima fase di questo capitalismo cioè la portata a portata di click tu hai anche all'interno di una città che sono poi degli stati perché ormai sono delle città stati le persone che ti portano il cibo a casa questo perché è importante il rider oggi la guerra dei rider perché è sotto gli occhi di tutti quindi quando noi abbiamo contestato i lavoratori eh eh in Bangladesh che magari sono rimasti sotto le macerie eh e quando un palazzo crollò e morirono più di mille persone eh e facevano le magliette a basso costo però erano lontani non li vedevamo mentre il rider che è esattamente la stessa cosa cioè gente che non ha alcun diritto che lavora praticamente quasi schiavo perché così l'ha definito anche la procura di Milano li abbiamo tutti i giorni sotto mano e quindi capire cosa c'è dietro questi eh uomini o donne eh invisibili eh è molto importante e poi perché il tema il tema rider è un tema che coinvolge tutti noi perché oggi sono i rider eh che ti portano il cibo a casa domani le società e le famose piattaforme si organizzeranno con magari che già stanno partendo con 40 50 forni in città e faranno direttamente loro il cibo da portarci a casa quindi da un lato è voglio dire un grido allarme nei confronti di 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 coloro i quali hanno perso i diritti sociali dall'altro è un grido allarme nei confronti dell'economia reale che invece è abituata quei diritti sociali a garantirli e muore se viene ovviamente bypassata da qualcuno che è più forte e può agire con armi differenti rispetto alla normalità che poi è è la normalità ovviamente è quello che è giusto quello che ci hanno insegnato negli ultimi cent'anni che i lavoratori si pagano e si assumono. Ecco da questo punto di vista però mi pare che la tua riflessione sia ancora più profonda no cioè il tema riguarda sì i rider i grandi colossi delle consegne a domicilio però alla fine quello che tu metti in evidenza in questo in questo romanzo che in realtà poi è un romanzo diciamo di passione civile che ripeto io insisto a dire sembra futuribile ma non lo è è proprio il modello di democrazia che noi andiamo a costruire cioè appunto quando dicevo prima Voltaire il grande algoritmo quando parlavo prima di Pangos come il grande fratello che tutto vigila e tutto controlla appunto mi pare che attraverso la vicenda dei rider noi possiamo fare una riflessione più complessiva sul modello di società che stiamo costruendo il cosiddetto capitalismo della sorveglianza no cioè non è più soltanto il tema eh dei diritti del lavoro è qualche cosa di più ampio dei diritti to cure no che noi come cittadini abbiamo è così capisco bene Guido? Sì mi fa piacere che mi inviti a questo esercizio no? Generalmente io cerco di fare zoom in cioè andare nel particolare e poi tu mi inviti a fare uno zoom out cioè a tirarsi un pochino più mettersi un pochino più dall'alto e osservare poi tutto il dispositivo il dispositivo che noi chiamiamo capitalismo della sorveglianza dove ci hanno scritto in tanti da da Morozov alla Zubov che cos'è? È un dispositivo tanto per cominciare figlio del capitalismo estrattivo perché ti do questa definizione che può sembrare diciamo ostica perché in realtà molti ti diranno il capitalismo è sempre stato estrattivo sì però negli ultimi vent'anni si estrae valore dall'uomo in tutte le sue componenti cioè non solo quella fisica ma anche quella interiore dai sentimenti eh dalle emozioni eh dai gusti dalle preferenze in maniera subdola perché molto spesso questo diciamo questo estrarre valore eh non è nemmeno eh diciamo ben delineato eh faccio un esempio quando noi stiamo sui social in realtà stiamo regalando dei nostri gusti a un algoritmo che poi studia noi stessi eh in più si estrae valore dal tempo libero perché qua tutto il tempo libero che noi passiamo magari a mandare delle foto a farcela a postarle eccetera eccetera è un tempo libero o a guardare o a guardare anche eh delle cose che ci interessano siamo tutto sommato sorvegliati e regaliamo i nostri gusti e le nostre emozioni a chi? A un algoritmo che all'inizio ci hanno spiegato che eh le utilizzava per eh formare dei cloud di consumatori cioè eh so che hai quei gusti e ti mando la pubblicità ammirata per i tuoi gusti che tutto sommato eh ce l'ha sempre questa narrativa panglossiana insomma ci poteva anche andare bene alla fine io non voglio ricevere la pubblicità di una cosa mi piace il calcio ricevo solo quella del calcio eccetera eccetera ma in realtà non è così cioè l'algoritmo oggi non è non impara solo a pensare come tu pensi e inviarti dei messaggi subliminari per una questione solamente commerciale di marketing no? Intanto impara a pensare come te pensi per creare un'intelligenza artificiale che possa in qualche modo in un futuro ormai non tanto lontano sostituire l'uomo si chiama eh si chiama singularity il giorno in cui avremo un'intelligenza artificiale tale che sarà pari a quella dell'uomo per averla abbiamo bisogno di tante cose ma ce le stiamo procurando guardate in questi giorni proprio di ieri c'è eh l'attenzione Cina-Taiwan che è qualcosa a cui io sono molto attento da da anni è una mia fissazione Taiwan ha il monopolio dei semiconduttori cioè dei chips cioè delle delle memorie che sostituiscono le sinapsi del cervello l'industria dei semiconduttori è essenziale per l'intelligenza artificiale infatti le grandi acquisizioni negli ultimi dieci anni sono state fatte in in UK cioè in Gran Bretagna una storia si chiama ARM e è un dominio praticamente americano ma Taiwan è la roccaforte dei semiconduttori è dove la Cina è più indietro l'unico punto tecnologente dove la Cina è più indietro è i semiconduttori proprio di ieri alla notizia che stanno diciamo comunque sia tra Filippini e Taiwan c'è tensione perché la Cina sta avanzando lì allora lì arrivi a capire come pensa l'uomo la parte successiva di questo capitalismo la sorveglianza che c'è in candido è farti pensare quello che l'algoritmo vuole o il potere vuole e allora quando c'è poi la manipolazione stessa subdola del pensiero tu capisci che in un regime democratico questo porta diciamo alla riscrittura di tutte le basi diciamo della nostra democrazia perché è manipolare la democrazia stessa quindi facendo uno zoom out effettivamente candido racconta il capitalismo la sorveglianza tutto tramite un algoritmo e un futuro che purtroppo è tra cinque minuti perché se non ci fermiamo arriva arriva proprio subito infatti proprio per questo allargavo l'orizzonte dei diritti non soltanto al tema del lavoro perché qui parliamo dell'esercizio di un diritto più generale che chiama in causa proprio le nostre libertà di base no non a caso anche qui vorrei una tua riflessione perché ho trovato molto originale molto divertente la trasfigurazione che fai nel tuo romanzo dal reddito di cittadinanza tendenzialmente assistenziale che abbiamo conosciuto in questi tre anni nel qui nel nel tuo romanzo nella cittadella di Voltaire quello funziona reddito disciplinare di cittadinanza cioè dire tu puoi contare nella benevolenza del di Voltaire diciamo così nella misura in cui però appunto il tuo sussidio riflette il tuo comportamento cioè non è più una condizione esistenziale di tipo fisico cioè non ho più il lavoro non ho più niente non ho più un reddito e tu mi aiuti no io ti aiuto e ti do un sussidio soltanto nella misura in cui tu eserciti secondo i miei dettami la disciplina che serve cioè rispetti quello che l'algoritmo ti impone è questo il meccanismo Guido capito bene assolutamente ed è un meccanismo terrificante se ne parla poco è già stato provato in tre stati cinesi quindi qui noi non abbiamo inventato niente cioè io poi ricordo questo libro l'ho scritto col collettivo diavoli perché aiuta molto diciamo un lavoro collettivo per fare questo lavoro che io chiamo theory fiction cioè una fiction però su dei su dei basi teoriche per esempio in tre stati della cina hanno inventato un metodo molto simile a questo dove non so se tu passi col rosso perdi dei cosiddetti crediti sociali social credit quindi ti levano un punteggio sul social e quindi c'è un potere chiaramente coercitivo che ti premia se ti comporti da cittadino modello con diciamo anche una pubblicità social su questo c'è il cittadino migliore della settimana per esempio ed è realtà e se tu invece ti comporti male perdi dei social credit ora già tu sei in una condizione ovviamente di inferiorità grave nei confronti di chi ti governa ma il fatto di perdere dei social credit in cina è molto importante perché ti leva completamente la possibilità di lavorare ovvero non ti puoi sottoscritto magari una polizza perché perché non 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 te la fanno pagare di più addirittura a volte non puoi prendere l'aereo per non parlare della patente non puoi viaggiare il fido o il mutuo il mino il micro credito che ti hanno fatto magari te lo miggano ti alzano interesse quindi voglio dire quel punteggio social diventa eh voglio dire te lo te lo stampano come una sorta di carta d'identità viene deciso da un algoritmo e pensa che non può essere rivisto cioè il fatto di quando dice papo francesco a volte le tirannie virtuali invisibili no quella tirannia virtuale invisibile perché quell'algoritmo poi alla fine ti bolla e tu non hai nemmeno una diciamo ipotesi di conflitto perché non sai nemmeno da chi andare una volta che hai avuto quel social credit lì o come fartelo modificare è terrificante ovviamente sì terrificante ma reale perché poi questo è il vero l'hai detto tu adesso insomma la cina su questo ci sta già quindi cosa impedirebbe in un futuro neanche troppo lontano che questi modelli si implementino anche nelle nostre eh gloriose virtuose civiltà occidentali poco nulla eh accennavi prima al capitalismo della sorveglianza parlavamo prima eh dei dati e tu anche in candido lo racconti l'importanza di big data vorrei che ci spiegassi Guido eh poi torneremo sul tema del lavoro perché ti voglio fare un'altra domanda perché poi alla fine mh anche quello è secondo me è il punto cruciale no è sul lavoro che si crea la principale delle fratture che poi allarga tutto il solco ma ehm su big data eh vorrei a un certo punto tu parli del nel libro dell'esercito dei bulgari chi è chi sono i bulgari chi è l'esercito dei bulgari oggi ah questo è è un aspetto che mi ero mi ero cancellato un attimo no perché effettivamente questo libro è molto denso di allora il l'esercito di bulgari è interessante abbiamo preso il nome dal dal Volterdi dal dal cambio di Volterdi in realtà si chiama l'esercito dei eh dieci sens eh è un esercito reale di persone reali e chiuse in uffici reali con dei computer reali davanti che si chiamano moderatori e sono eh dei eh dei gentilissimi signori e signore eh e soprattutto questo avviene appunto in Cina che sono nei social e moderano e tranquillizzano gli animi cioè veramente tranquillizzare gli altri e avviene cioè avviene proprio si chiama esercito dei dieci sens perché sono pagati poco stanno tutto il giorno davanti a un computer entrano nelle chat e se qualche cittadino ha qualche rimostranza loro con aria abbastanza eh tranquillizzante cercano di dire che tutto va bene appunto che viviamo nel migliore dei mondi possibili tranquillizzano qui è l'opposto dell'eter cioè mentre noi in occidente stiamo molto eh diciamo stagio dei cosiddetti leoni da tastiera no? Gli odiatori già il potere su questi odiatori si è organizzato e quindi ha assunto e paga delle persone per calmierare gli animi anche questo è è realtà ed è fatto da uomini non è fatto da bot o da algoritmi qui ci sono proprio degli uomini che fanno questo mestiere. Beh straordinariamente interessante straordinariamente inquietante devo dire no? Eh altro altra categoria l'ho evocata prima nella mia introduzione ma ci vorrei tornare sopra eh che tu racconti nel nel tuo candido a un certo punto appunto lo stesso candido dopo una serie di vicissitudine varie eh viene a contatto con un altro esercito eh i turchi meccanici no? Milioni di persone anche queste in carne ed ossa al servizio dell'algoritmo. Chi sono oggi i turchi meccanici Guido? Siamo eh i turchi meccanici sono è l'uomo cioè il concetto filosofico di turco meccanico viene da perché lo chiamiamo turco? Turco perché nella nel 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 settecento c'era una macchina che poteva sembrare veramente un computer che sfidava tutti i più grandi scacchisti d'Europa tra cui anche c'erano diciamo i monarchi persone importanti intellettuali e puntualmente questo computer meccanico si chiamava mechanical turc vinceva sempre era portato da una persona metteva questa macchina c'era una scacchiera e io la vorrei ho cercato anche dei dei disegni praticamente è è sostanzialmente come fosse un tavolino però coperto eh dove si giocava scacchi quindi la macchina dettava le mosse e puntualmente vinceva si scoprì poi che dietro la macchina o meglio sotto la macchina c'era un un nano proprio era 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 un nano nel senso che eh la macchina era 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 bassa compatta fortissimo a scacchi turco allora questo perché è importante perché dietro l'algoritmo in realtà quello è esemplificativo no cioè come dietro una macchina c'è sempre un uomo anche la tecnologia oggi eh tanto decantata importante per credere di Dio ha sempre a un certo punto bisogno di un uomo dietro cioè l'algoritmo da solo ancora non basta in questa fase di transizione no non è ancora i droni che ti portano le cose eh diciamo eh dentro casa quindi sia la logistica quando ti arriva un pacco a casa sia il rider quando ti porta una pizza o un pasto caldo il moderatore dell'esercito dei bulgari che ti moda c'ha sempre bisogno dell'umano ora noi non sappiamo massimo se questa è una cosa che durerà ma sappiamo che la mia generazione la tua generazione vive in questa zona di mezzo dove ancora c'è bisogno di un turco che aiuta l'algoritmo quel turco però non è il campione di scacchi che girava per le corti europee ma è l'uomo schiavo di quell'algoritmo stesso come l'ha definito la procura di Milano quindi quel turco è l'emblema e qui veniamo al lavoro di tutto quello che noi abbiamo diciamo creato no? Eh è è l'uomo che in questa fase di transizione tecnologica così impetuosa e accelerata ancora deve stare vicino all'algoritmo altrimenti l'algoritmo solo non ce la fa. Ecco come 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 vediamo e come capiamo dalle cose che stiamo dicendo e che Guido ci racconta riassumendo anche in chiave metaforica i contenuti del suo libro eh appunto parliamo di una società in cui la schiavitù si diffonde le varie forme di schiavitù si diffondono in maniera subdola senza che neanche ce ne rendiamo tanto conto eh torno al tema del lavoro perché poi appunto l'innesco riguarda questo ehm la battaglia dei rider è paradigmatica eh in senso generale come ci siamo detti fin d'ora ma sappiamo bene che eh nel sotto il profilo dei diritti il lavoro è esattamente quella cosa che trasforma un individuo in un cittadino ed è proprio lì che si consuma eh la più grande strage delle illusioni che stiamo vivendo oggi eh appunto facevi bene prima a ricordarlo eh nel passaggio da eh le forme di schiavitù nei confronti dei bambini o dei lavoratori schiavi nei sottoscala del farist ormai anche nel nel ricco e civile occidente ehm candido appunto nel libro da questo punto di vista in K in varie eh vicissitudini c'è il suo amico Spillo non raccontiamo troppo la trama ma insomma due tre indicazioni di base per capire il percorso che riguarda appunto il tema del lavoro il suo amico Spillo licenziato per non aver sorriso al cliente no un altro rider licenziato per non aver sorriso al cliente poi la consapevolezza che a un certo punto monta in questo in questa comunità di schiavi che organizzano un grande sciopero eh candido viene licenziato a sua volta per perché sospettato non importa se sia vero o falso ma comunque di aver partecipato eh aver partecipato allo sciopero allora la domanda che ti faccio è ehm è questa Guido eh tra l'altro permettetemi di citare eh abbiamo fatto un'intervista ehm con il nei giorni scorsi con il grande eh regista Ken Lodge che ehm il cui ultimo film insisteva esattamente su questo tema sorry we missed you eh si parlava ovviamente della del delle nuove forme di schiavitù nella società della logistica e diceva Ken Lodge ehm la colpa di tutto quello che è accaduto è della sinistra che ha dimenticato eh gli ultimi eh senza capire che eh gli ultimi non erano più quelli di una volta ma sono diventati questi altri questi ragazzi questi giovani ehm trasformati in invisibili chiedo a te di chi è la colpa se sul mondo del lavoro si è consumata esattamente questa questo fenomeno di di impoverimento e di deprivazione dei diritti ma guarda io seguo ovviamente Ken Lodge quel libro e quel film e noi mentre è uscito il film noi stavamo scrivendo Candido eh ed è la sinistra e infatti io da eh insomma voglio dire sono sono arrabbiatissimo con tutto quello con la guerra che la sinistra ha perso contro la tecnologia ti voglio fare una 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 dicressione teorica su questo nel senso che è sempre presa da altri eh non è roba mia anzi è un collettivo sia un collettivo Ippolita ma mi sembra l'analisi più lucida sull'approccio della politica alla tecnologia eh il collettivo Ippolita identifica un una triologia che io ho voluto chiamare noi abbiamo voluto chiamare la santissima trinità dell'itec cioè un triangolo cioè tre poli con tre approcci diversi alla tecnologia uno è l'approccio insomma della della società di oggi il neoliberismo eccetera eccetera cioè vede nella tecnologia pura estrazione di valore pura estrazione di profitto e anche diciamo l'ambiente per poter controllare eh 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 diciamo eh il cittadino più o meno più o meno quello che abbiamo scritto in Candido la seconda parte diciamo il secondo approccio si chiama tecno entusiasti cioè sono quelli stile se vuoi un po' eh Elon Musk cioè loro vedono la tecnologia uno strumento che libererà tutto che non diciamo si chiamano anarco capitalisti cioè la legge della giungla la tecnologia eh nella tecnologia vince il più forte non c'è nessun potere non c'è nessuno stato diciamo la tecnologia regolerà più o meno tutti e e e ci libererà eh anche dal lavoro e e e così via sono i tecno entusiasti però sono un po' troppo diciamo se vuoi non ottimisti ma insomma eh cancellano di fatto lo stato il tecno il tecno entusiasta si differenzia dal regime di oggi perché il regime diciamo riferito a quella alla cinese del controllo perché proprio dice non abbiamo più bisogno dello dello stato la la terza via che è quella più giusta ti cito Morozov tra 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 quelli insomma più importanti che sono i tecnocritici che dicono no no fermi la tecnologia è importantissima ma deve essere di tutti cioè la la ricaduta a terra della tecnologia deve andare a tutti è un po' quello che sta cercando di imporre timidamente l'amministrazione Biden adesso quando dice sì tutte questi grandi big tech ho capito però a terra cosa porti su all'interno di questo triangolo è morta la sinistra occidentale cioè l'approccio della sinistra occidentale è stata solo che la Silicon Valley ieri era cool che io aprivo il mio bel pc e a portata di clic avevo un post un pasto caldo subito eh diciamo pronto e ha completamente perso la parte culturalmente secondo me Massimo culturalmente cioè io non ci vedo ma la fede io ci vedo proprio ignoranza ha perso la guerra con la pro l'approccio alla tecnologia sbagliato alla sinistra ha fatto perdere alla tecnologia alla alla sinistra il lo il suo diciamo il suo il suo ruolo principale che era protezione degli ultimi protezione dei debili dei deboli non li ha più identificati questo è il recupero secondo me che devono fare tutte le sinistre occidentali e a questo mi fa piacere a questo e questa è la cosa che a cui tengo di più mi sembra tutto con di pienamente condivisibile la tua analisi mi trova perfettamente d'accordo eh però mi faccio un'altra domanda e la faccio anche a te eh Guido nel senso che stante la correttezza dell'analisi stanti le storiche responsabilità della sinistra perché è un fenomeno secondo me lo vediamo oggi ma è iniziato molto in là negli anni potremmo anche potremmo persino dire che l'inizio di tutto questo è insito nella svolta virtuosa che a un certo punto le sinistre riformiste del mondo hanno fatto no mi riferisco agli anni alla metà degli anni 90 la 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 terza via Clinton Blair sembrava che si potesse eh in qualche misura eh costruire eh un capitalismo del volto umano e che comunque alla fine ci fosse una tale tanta fiducia nelle virtù taumaturgiche del mercato senza bisogno che lo Stato esercitasse una funzione regolatoria troppo massiccia che questo ci avrebbe senz'altro portato a inevitabilmente al progresso e quindi di lì una serie di smottamenti progressivi proprio sul terreno dei diritti e io credo proprio a partire dal dalla frontiera del lavoro no? Eh ecco però quindi se parliamo se parliamo di un processo eh così lungo nel tempo che oggi ci ha portato a questa deriva che sembra pericolosamente incontrollabile la domanda che mi faccio spesso e che rivolgo adesso anche a te è siamo ancora in tempo per rimettere il dentifricio dentro il tubetto o ormai di fronte a agli over the top eh adesso lasciamo stare mh allarghiamo l'orizzonte dal 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 dai grandi agglomerati delle consegne Glovo Deliveroo e allarghiamolo al tema appunto degli over the top quindi eh i giganti del web Amazon eccetera che hanno eh volumi di ricavi che corrispondono al PIL del Messico piuttosto che dell'Ungheria ecco di fronte a tutto questo siamo ancora in tempo per recuperare oppure è una battaglia perduta e dobbiamo solo vedere come va a finire ma ehm il il dentifricio dentro il tubetto non lo rimetti mai ehm ma abbiamo bisogno di consapevolezza e abbiamo bisogno di raccogliere le macerie e ripartire quali sono le macerie è uno stato eh che conta meno di una piattaforma tecnologica però lo stato deve riconquistare diciamo il potere eh la politica deve rientrare nell'arena quindi quello che è perso è perso secondo me la cosa più importante oggi è stabilire delle nuove regole già si stanno facendo per esempio sull'ambiente si sono fatte eh cioè può investire solamente in società che hanno eh diciamo un impatto ambientale eh limitato eh sono state fatte anche sulla parte eh di questo tipo di capitalismo tu pensa la cosa un po' una piccola luce dell'Iveru che è stata quotata tre giorni fa molti gestori diciamo si sono rifiutati di comprarla perché non rispetteva questa è una cosa che non sarebbe mai successa cinque dieci anni fa mai se la sarebbero litigata il titolo ha perso il trentatré trentaquattro per cento in un'ora quindi che poi alla fine si sia arrivati il o il capitalismo stesso con degli anticorpi per per auto auto diciamo di sopravvivenza o la politica stessa con o la riorganizzazione dell'uomo in un collettivo eccetera eccetera diciamo di di che che può guarda quello che sta succedendo nei raid anche in Cina ieri c'è stata una protesta hanno arrestato diciamo quello che ha fatto lo sciopero però secondo me eh il dentifricio non può essere rimesso dentro il tubetto ma il problema si può identificare chi ha vinto ha vinto chi ha perso ha perso però si riparte cioè è come dire ok ripartiamo però però chi ha vinto fino adesso non può continuare a vincere anche domani va bene non possiamo non può essere una pena retroattiva ma almeno ricominciamo rimettendo il tavolo diciamo non più inclinato ma sempre diciamo nella stessa posizione ecco questa è la politica deve raddrizzare il tavolo questo almeno è qualcosa che si deve assolutamente fare ecco tra l'altro concludiamo su questo eh mi ha molto confortato anche da questo punto di vista il riconoscimento non so se definirlo così addirittura un tributo che il Financial Times ha reso qualche giorno fa all'Italia quando facendo un ampio reportage sulle proteste dei rider sull'attenzione che la loro battaglia ha innescato nella nostra società e anche sugli interventi della magistratura lo ricordavi tu prima ehm il procuratore di Milano Francesco Greco che ha parlato di 60.000 schiavi che eh le aziende dovrebbero finalmente trasformare in cittadini ecco ehm l'Italia come laboratorio eh della nuova declinazione dei diritti nell'era della gig economy ehm è un auspicio eh speriamo che sia vero direi no? Tu la vedi questa opportunità per l'Italia? Assolutamente io vedo una grande luce in questo senso ehm e vedo anche che l'Italia per una volta ha l'occasione di guidare l'Europa se vuoi verso un capitalismo diciamo più sostenibile perché alla fine la mia critica è solo per avere una forma di capitalismo più sostenibile accessibile per tutti. Mi pare giusto concluderei leggendo proprio poche righe nella della parte conclusiva del del tuo romanzo Guido perché poi il potere è subdolo lo dicevamo prima e l'abbiamo detto più volte durante la nostra conversazione e quindi usa armi non convenzionali per per perpetuare se stesso e allora scrivi scrivete insieme al al ai diavoli perché nella storia è sempre stato così anche il potere si rende conto che un minimo deve cambiare per restare tale se si incancrenisce si cristallizza e poi viene spazzato via come è sempre successo allora il potere temendo davvero solo quelli che il potere non lo vogliono lo rifiutano per principio alleva tutta una serie di finte contrapposizioni a se stesso le foraggia e fa in modo che siano egemonia ovunque non riesca a esserlo lui per questo la maggior parte dei conflitti si ridimensionano si diluiscono e poi sembrano non esserci mai stati perché è il sistema stesso a crearli e poi a gestirli speriamo che non sia il nostro caso stavolta eh assolutamente va bene allora ve lo consiglio perché è davvero una lettura a parte piacevolissima perché è scritta molto bene ma davvero molto molto istruttiva anche se un filo inquietante come ci siamo detti però la speranza è tanta guido siamo d'accordo su questo grazie guido maria brera grazie a tutti voi che ci avete seguito ed ascoltato a presto in bocca al grazie massimo di cuore e grazie a tutti voi